bentornati sul canale oggi ci troviamo san domenico val di vedro abbiamo lasciato la macchina parcheggio degli impianti e stiamo iniziando a salire raggiungeremo l'alpe ciamporino quasi 2000 metri sperando nel tempo e poi faremo un sentiero una figata pazzesca si chiama sentiero dei fiori che ci porterà all'alpeveglia e poi chiuderemo il giro tornando al parcheggio speriamo che il tempo sia buono e andiamo avanti siamo arrivati dell'alpe ciamporino quasi 2000 metri Un'ora e dieci, un'ora e un quarto, bella storia, il tempo sembra che ci vada bene, adesso andremo a fare il sentiero dei fiori, speriamo dai, avanti! Grazie per la visione! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Cosa vuoi di più la vita? Tanta roba! E vai! Adesso ci tocca scendere, ed è un peccato, è veramente un peccato! Ah, dimenticavo! Iscriviti al canale! Arrivati anche dal Peveglia, almeno! Credo che sia la Peveglia, visto la grande nebbia che c'è! Giro fatto molto molto bello, molto paesaggistico, non difficilissimo, non c'è un grande esilevello, tranne la salita che parte da San Domenico, dal parcheggio, fino all'Alpeciamporino, che si può eliminare prendendo la seggiovia, quando ovviamente è aperta! Niente, noi andiamo avanti, commentate, mettete mi piace e iscrivetevi al canale! Ciao! Ciao!